ben trovati ben trovati ad una nuova guida firmata fabio ambrosi.it quest'oggi vedremo come pulire la cache del browser vale a dire tutti quei file che vengono salvati sul vostro computer quando navigate in internet perché pulire la cache del browser ci sono vari motivi due in particolare il primo per liberare spazio sul disco il secondo motivo è anche legato se volete alla privacy se il vostro computer è in condivisione con altre persone per esempio potreste voler cancellare rimuovere la cronologia dei siti che avete visitato non fate questa operazione troppo spesso perché in realtà i dati di navigazione in particolar modo la cache del browser sono utili per garantire delle prestazioni ottimali quando visitate i siti internet quindi fatelo con parsimonia ecco cominciamo subito con lo step numero uno aprire il browser quindi in questo caso google chrome per farlo sapete bene come si fa meglio di me clicchiamo sull'icona ed ecco che il gioco è fatto step 2 andiamo ad aprire le impostazioni di google chrome dove sono le impostazioni beh in alto a destra trovate dei puntini cliccateci sopra e avrete un menu qui ci sono tante impostazioni e tante opzioni a cui è possibile accedere step 3 cliccate su impostazioni per l'appunto questa è l'operazione che ci permetterà di entrare proprio nella pagina vera e propria dedicata alle impostazioni di google chrome step numero 4 identificate cercate sulla colonnina di sinistra la voce privacy e sicurezza eccola qui cliccateci step numero 5 identificate sulla colonna di destra quindi in quest'area scendendo un pochettino la voce cancella dati di navigazione una volta che avete trovato questo bottoncino o meglio questa questa voce questo link cliccateci sopra step numero 6 come potete vedere ci sono tante opzioni tra cui scegliere tante voci che potete spuntare e queste voci sono le cose i dati veri e propri che andrete a cancellare quando cliccherete sul bottone cancella dati abbiamo due tab la prima tab ci dà delle informazioni di base quindi ci permetterà di cancellare solo alcune cose come per esempio la cronologia di navigazione o i cookie o le immagini e i vari file memorizzati nella cache la seconda voce avanzate ci permetterà di avere accesso a più impostazioni come per esempio le password salvate per esempio le impostazioni dei vari siti internet eccetera eccetera scegliete quali dati eliminare nel mio caso tutti e ancora più utile scegliete un arco temporale da cancellare per esempio noi potremo voler cancellare solo i dati salvati nell'ultima ora i dati salvati nell'ultimo giorno e così via quando avete fatto questa operazione cliccate su cancella dati è tutto per questo tutorial per questa guida vi ricordo e vi invito a mettere un like se vi piace questo video a condividerlo con i vostri amici a registrarvi a questo canale youtube se ne avete voglia e vi aspetto su www.fabbiambrosi.it per tante notizie news tutorial corsi e molto altro ancora ciao alla prossima